Anche la protezione civile di Vertova in campo per il comune di Amatrice, colpito, lo sappiamo, in estate dal terremoto. Diverse le azioni che avete portato avanti in questi mesi. Ricordiamo che cosa avete fatto. Sì, infatti questa che vediamo questa sera è la terza azione che stiamo preparando. La prima azione è stata subito dopo il terremoto con una raccolta di materiale che è stato più che altro di settore sanitario e di pulizia. Perché sapevamo benissimo che di primo impatto arriva un sacco di roba, ma poi le necessità della gente nascono dopo. E devi vedere materiale che non è deperibile. Dal detersivo, i pannolini per bambini, gli omogeneizzati, tutta cosa che siamo riusciti a stoccare. Infatti erano ben 150 cartoni che abbiamo preparato e che abbiamo affidato i primi di dicembre alla Croce Rossa italiana che si è preoccupata di portarli giù. Successivamente abbiamo iniziato anche una raccolta fondi stimolati un po' dalla popolazione di Vertova e dai vari gruppi che ci sono. Sia Vertova che Fiorano, gli amici di Orezzo, di Gazzaniga, di Semonte, che ci hanno dato una mano. Infatti abbiamo raccolto una bella somma di 8.400 euro che porteremo poi al Comune di Amatrice direttamente nelle mani del Sindaco. La fiducia della gente è stata perché andiamo direttamente in Comune a consegnarlo. Chiaramente non scendiamo con i soldi perché poi il passaggio verrà fatto banca a banca. Però l'impegno che il Comune e il Sindaco si è preso con noi è quello di tenerci informati dove andranno a finire questi soldi e il tipo di lavoro che faranno perché la gente vuol sapere dove vanno a finire i loro soldi. Tanti punti interrogativi e noi abbiamo pensato che questa era un'ottima soluzione. Il terzo impegno che ci siamo presi è quello di stasera che stiamo caricando. Sono 28 valle di fieno che porteremo giù ad Amatrice. Abbiamo già anche l'agricoltore dove portarlo e questa è nata così per scommessa e per un passaparola. Ecco perché questo carico, questo trasporto di fieno per Amatrice? Innanzitutto penso per la solidarietà, insomma si fa quel che si può. L'abbiamo inventata così, l'ho buttata lì i ragazzi e hanno detto se riusciamo perché no. Abbiamo sentito giù i contatti e speriamo che vada tutto bene e buon fine soprattutto. Senza dubbio, come siete venuti a conoscenza che c'era questa esigenza? Ci sono altre squadre giù che stanno già operando, che stanno dando una mano a chi ne ha bisogno e tramite loro, quindi direttamente dall'interessato, abbiamo trovato il bisognoso del fieno, un'azienda agricola che gli è venuto giù tutto con la neve. Gli hanno portato una roulotte, lui adesso vive nella roulotte, i volontari stanno dando una mano a raddrizzare capannone, stalla e quel che è per vedere dove può arrivare e il fieno ne abbiamo portato noi e c'erano lì a 3-4 chilometri perché in azienda non vado, ci sono giù 3 metri di neve e non riesco ad andarci, però c'era lì, lui mi ha detto lasciatemelo lì che poi vado io a prenderlo, sempre tramite pubblica assistenza che sono giù a lavorare. Quanto fieno? 28 balloni, quello che ho potuto caricare, di più non ce ne stanno. Come è stato possibile recuperare questo fieno? Questo fieno, l'iniziativa è stata di sentire tramite un amico mio di Parma che vende il fieno se era possibile una compravendita di tipo, gli ho spiegato la motivazione e lui mi ha detto guarda se vuoi, visto il gesto che fate, ti lascio 40 euro a ballone e vieni a prendere quelli che ti servono. Io Whatsapp l'ho messo così in rete e in meno di 5 ore i 28 balloni sono, i soldi per i 28 balloni sono arrivati e poi c'è gente come avete visto che invece li ha offerti direttamente e quindi ne prendiamo 18 perché 10 li hanno offerti invece che offrirgli gli altri ne hanno pagati, la stessa cosa.